Mes amis, bonjour, comment ça va? Questa mattina così parto in franchise, buongiorno cari amici, benvenuti ad un'altra puntata, oggi venerdì 8 luglio, siamo qua per tenervi compagnia con tanta bella musica, tante belle chiacchiere, tanti appuntamenti danzanti e finalmente augurarvi un buon weekend perché ne abbiamo tutti bisogno, assolutamente. Direi di partire con i ringraziamenti, vi ringrazio di cuore perché sempre ci seguite in tanti, soprattutto sulla pagina Facebook Nima Radio TV dove voi interagite con me attraverso i messaggi che mi mandate e poi ovviamente dobbiamo salutare tutti gli amici delle radio, sia quelle web che quelle FM ma anche gli amici di Rete Mia per la Toscana, siamo pronti? Una bella mezz'oretta di musica insieme, un purpurì dai diverse belle canzoni di anni fa ma anche recenti. A tra poco alle 11.30 questa mattina anche l'informazione alle ore 12 con chiaracorrali delparmense.net ma intanto musica maestro! Amici vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese, spegni la luce, mare mare, stella del nord, un angelo nel blu ed ecco le ultime novità, grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, peccato mortale e ballando con maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Eccoci rientrati cari amici dopo la prima mezz'ora di musica ma quanti inviti mi stanno arrivando questa mattina mi fa molto piacere vado comunque a salutare coloro che hanno già scritto un messaggio e partiamo ritornato dalla terza posizione riconquista il primo posto il nostro Luca Vitali buongiorno fratellone non vedo l'ora che arrivi domani sera per vederti anche io Tato anche perché non ci siamo visti la settimana scorsa e come ti ho detto ci sei mancato tanto e lo dico davvero con il cuore come direbbe Barbara D'Urso. Inesperotti ciao carissimo fa caldissimo la tua musica è splendida saluto tutti i miei amici del gruppo messenger di Federica Cocco ciao Ines ieri ti avevamo dedicato una canzone un bacio a te te l'ha dedicata anche l'amica Mara di Pratau e arriva proprio in questo momento Monica o meglio l'ha scritto prima alle non c'è l'orario posso vedere solo la data ma non l'orario buongiorno a tutti ci si vede domani sera allora vi aspettiamo la nostra Cocco che dà l'appuntamento alla serata di domani sera tra poco vedremo la slide ecco il primo invito ragazzi sono corteggiatissimo buongiorno Nicola sono in montagna vieni a fare un giro in moto ma sai che io avevo già intenzione oggi dopo pranzo di fare un giro in montagna proprio verso vetto mi sa che verrò a prendere il caffè da te cara d'ora va bene buon venerdì e buon weekend a tutti comunque metti in mezzo alla strada perché non mi ricordo la casa almeno quando faccio quando arrivo mi fermo con la moto Fiorenza Benatti ciao Nicola buon fine settimana domani Imanoinò a Bondeno eh lo so lo so fai un salto dai e domani non riesco perché ho la serata anch'io altrimenti magari un salto l'avrei fatto volentieri allora c'è una immagine che devo far vedere della nostra Dora perché la nostra Dora sta recuperando tutto il tempo perso ovviamente e fa bene perché ieri se n'è andata in quel del parco Messita dove tra l'altro noi saremo a fine agosto il 25 d'agosto ho già detto Dora non prendere impegni ma ha risposto eh devo guardare il mio calendario vabbè oggi ti metto a posto io ecco qua la foto che mi ha mandato pensate un po' c'era l'orchestra Castellina Pasi la nuova orchestra Castellina Pasi capitanata dalla Andrea Barbanera e alla chitarra c'era un personaggio molto particolare molto conosciuto alle telecamere del Niman Show Live guardate un po' c'era l'amico Marco Tonelli il nostro tonno è l'ora d'ora non ha fatto altro che fare delle foto giustamente e mi ha mandato appunto via Whatsapp questa dicendo guarda chi c'è questa sera qui al Messita il grande tonno con la sua chitarra e quando si tratta di Castellina Pasi ragazzi la chitarra del nostro tonno è inconfondibile tra l'altro tra l'altro andate a vedere su Facebook la pagina poveri ma brutti che è il tributo del nostro tonno all'orchestra Castellina Pasi fan parte di questo gruppo tanti musicisti conosciuti nell'ambito della musica da ballo e quando vi capita magari di sentire questo nome in giro poveri ma brutti andate a gustarveli perché ascolterete il liscio alla Castellina andiamo facciamo una cosa io ho preparato Peccato Mortale ma tra poco ti faccio ascoltare anche un Tutto Pepe va bene Dora che dici intanto Peccato Mortale e questo era Peccato Mortale allora Dora io non ho trovato Tutto Pepe perché o meglio Tutto Pepe ce l'ho ma dalla vecchia Castellina Pasi io volevo farvi gustare un bel brano suonato appunto da questo nuovo gruppo che è nato poveri ma brutti capitanato dall'amico dall'amico Marco Tonelli e allora ne voglio approfittare perché ho trovato una bella polca dal titolo deliziosa sempre di Castellina Pasi ma in questo caso suonato appunto da Super Tonno con tutti i suoi compari di merenda e i poveri ma brutti sentite un po e questa era deliziosa dei poveri ma brutti e allora mi raccomando quando sentite questo nome in giro qualche serata andate pure ad ascoltarli vado a salutare la nostra amica Mara di Prato che è arrivata ciao Nicola buongiorno sto ascoltando mi mandi la tua canzone in musiche parole un saluto a Ines ciao da Mara di Prato ma certo ti accontento e poi vi accontento anzi devo accontentarti prima con la canzone di Federica Cocco che l'altro giorno l'ho fatto o non l'ho fatta sì ho mandato traditore però voglio riascoltare la tua preferita o meglio dalla fine del mondo la canzone del Papa Francesco eccola qua che arriva ed eccoci rientrati stiamo rientrando anche su Facebook e prima di mandare in onda la canzone che mi aveva chiesto Mara di Prato musica e parole ne approfitto per ricordarvi il nostro appuntamento di sabato domani sera saremo al campetto di Pratissolo di Scandiano provincia di Reggio Emilia infopronotazioni domenico al 335 61 90 597 sabato 9 luglio orchestra Nicola Marchese saremo in formazione qui in tetto come siamo stati in quei di Ramiola andiamo subito ad ascoltare la canzone richiesta da Mara e arriva musica e parole tutta per te cara Mara e su questa canzone arriva il messaggio di Ines ciao Mara bellissima canzone bella davvero bella davvero bravo Omar e la sua cantante Martina che l'hanno fatta per primi cioè la loro e noi abbiamo fatto la nostra versione allora allora c'è un messaggio che sono riuscito a tenere in memoria dalla vecchia diretta di Anna Chiesa la nostra amica Anna ciao Nicola sono appena tornata dal day hospital ho fatto la mia dosi di ferro devo tornare più in forma che mai mi fai ascoltare io non mi arrenderò grazie certo cara Anna e mi raccomando non mollare mai assolutamente ok noi siamo qua per sostenerti come tu lo fai con le tue torte quando ci viene a trovare ci viene a sostenere con gli zuccheri perché a delle volte sotto il sole cocente abbiamo un po' bisogno ecco qua che arriva Diego Zamboni ciao Gianni e poi è arrivato anche Gianni avanti tutta caranna e proprio in questo momento arriva il messaggio del nostro Gianni che dice ciao Nicola sono appena tornato dalla visita oculistica mi va bene anche questa canzone però perfect mi va meglio grazie la tua versione è certo io ne approfitto l'ho già preparata te la dedico con tutto il cuore mi ha accompagnato dalla voce anche della nostra cocco e brevemente congisamente appena possibile troverete ragazzi vedrete anche delle nuove canzoni dei videoclip qui in trasmissione anche se poi ci sarà un po' di cambiamenti per quanto riguarda anima show live ma queste ve le comunicherò a tempo debito andiamo con perfect è stato un peccato peccato mortale amici vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese spegni la luce mare mare stella del nord un angelo nel blu ed ecco le ultime novità grazie musica musiche parole ultimissime novità peccato mortale e ballando con maio per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 19 12 091 per la tua pubblicità nel anima show live contattaci al 393 19 12 091 e vai che caschè ragazzi un grande maio con argentinita questo bellissimo tango del mitico patacini vado a ricordarvi l'appuntamento del river di pontetaro perché sabato 9 luglio vi farà ballare l'orchestra di nicola congiù il river lo trovate a pontetaro di parma venerdì sabato sempre aperto per voi con quattro piste da ballo e sabato sera nicola congiù arriva un'altra canzone che è un altro inno per la vita io non mi arrenderò l'abbiamo dedicata ad anna anna ti dedico anche questa amo la vita vai amo la vita di nicola congiù allora ne abbiamo parlato prima di paolo montanari della merda tramite l'amica fiorenza benanti che ha ricordato che sabato sera domani sera saranno in quei di bondeno ne approfitto per ricordare il nostro appuntamento insieme festival denza martedì 9 agosto con la cura dei dilettanti grande ospite paolo montanari corrida che verrà presentata dal sottoscritto insieme alla nostra monica la cocò con tonno maio e cocchi e sul bala sulla balconata social ci divertiremo tanto perché stiamo studiando un po di gag e per farvi passare una serata all'insegna dell'allegria oltre ai concorrenti anche con lo staff che conduce questa manifestazione siamo sono pronto anzi non sono pronto ma vado a prendere subito un brano di del nostro amico paolo eccolo qua che ci andiamo ad ascoltare è un po che non ascoltiamo gli aeroni neri ragazzi e direi di sì ce l'ascoltiamo se la trovo sì eccola qua tutta per voi vamonos mi piace tanto sta canzone e dopo questa tre rose nel bicchiere vado a salutare l'amica perla grigio che mi dice buongiorno dopo la bufera di ieri sera sopravvissuti mamma mia ragazzi ho visto alcune scene ma qui ad esempio dove abito io non è successo nulla ma a poco distante vicino casa al grande c'era in atto una festa ha distrutto mezzo mondo veramente quando succedono queste cose si rimane a bocca aperta tra l'altro poi ho visto anche un messaggio un messaggio su facebook dell'amico collega roberto morselli dove lui continua a dire ragazzi i palchi per le feste per le orchestre vogliono coperti ci vogliono ci vuole la copertura perché è un attimo ormai il meteo non è cambia da un momento all'altro e può succedere qualcosa veramente di brutto tra l'altro lui stesso dice i grandi se voi date un'occhiata tutte le strutture dei big sono tutte coperte pertanto anche se in piccolo bisogna arrivare a questo anche con l'orchestra perché sì perché se ti trovi in un momento del genere con una bufera del genere con tutto quanto all'aperto è vero che anche la copertura può far poco ma comunque se è ben ferma bene salda sicuramente un po aiuta cara amica mia perla ti sei persa la canzone di frank david la vite adesso la sua cover di baglioni ti voglio dedicare questa dopo la resa eccolo qua sempre bella questa canzone allora una piccola carrellata degli appuntamenti del fine settimana che abbiamo pubblicizzato noi vi ricordo che è il river di pontetaro vi aspetta sabato 9 luglio ecco qua la slide con le sue quattro piste da ballo ma sabato 9 luglio ospiterà l'orchestra di nicola congiù river pontetaro aperto il venerdì e il sabato a pontetaro di parma ok e invece noi dove vi aspettiamo a prati solo di scandiano reggio emilia circolo il campetto sabato 9 luglio orchestra nicola marchese info prontazioni domenico oltre 35 61 90 5 9 7 vi do un'anteprima perché la settimana prossima domenica l'orchestra nicola marchese si sposta in quei del piacentino o meglio ce ne andiamo alla festa di morfasso morfasso in festa fiera di luglio questa festa proporrà tre serate la serata giovani il 15 sabato 16 l'orchestra l'orchestra tonia todisco mentre domenica 17 concluderemo la fiera noi con l'orchestra nicola marchese e i fuochi d'artificio il caso ha voluto che arrivassi proprio a morfasso e bene sì perché l'anno scorso conosciuto questo paese tramite una gara di bici di mountain bike di mio figlio richi quest'anno ci ritorna ci ritorniamo e la sera mi trovo a ad agliettare la fiera di morfasso grazie all'amico paolo bertoli che con il quale si collabora andiamo ragazzi è arrivato il momento di salutarci lo faccio con questa bella canzone fabio cozzani e roby bologna con caffè ciao a tutti a lunedì bye bye